musica perché forse dai tornei compiti di Fortnite non si potranno più usare le risoluzioni stretchate a stretch mi trovo molto meglio a giocare molto molto meglio musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Senti, dopo un po' basta. Orca, era avvelenato quel tipo. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mamma mia ragazzi Che tensione questo game boys Che tensione questo game boys Che tensione Basta che il tizio mi fa uno scope e sono morto Grazie a tutti Grazie a tutti Oh merda Merda Mi sto incestrando Merda ragazzi Tensione Ok Ok No way Non sono riuscito a fare le venti bombe Si è suicidato Non ci credo Si è suicidato Il game per il mio centesimo livello Nooo Si è suicidato Nooo Incredibile Un game così bello Catroia Non ci credo Nooo 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 Grazie a tutti.